E' stato presentato a Villa Magnisi il sistema informatico online Sanità in Rete, la nuova piattaforma dell'ospedale La Maddalena di Palermo che consentirà un vero legame interattivo tra medico e paziente. Attraverso l'innovativo sistema gli utenti potranno soffrire di diversi servizi come la prenotazione di esami, visite mediche e ricoveri con un semplice click, garantendo un rapporto diretto tra medici, strutture e utenti. Siamo a un 85% della informatizzazione totale dell'ospedale, questo è già un obiettivo notevole. Mi auguro di arrivare presto al 100%, però se la sanità pubblica ci mette in condizione di poter entrare in Rete, un risultato ottenibile subito è lo svuotamento delle sale d'attesa dei medici curanti, perché avviene tutto per email e il medico può dedicare il suo tempo prezioso per l'aggiornamento scientifico, l'associazione, volontariato. Questo programma mette al centro non tanto i medici o la sanità, territorio, ospedale, ma mette al centro l'interesse della persona e della persona assistita. Il fatto stesso che senza doversi muovere da casa per andare a ritirare il referto, andare a prenotare, e da casa stesso si può fare tutto e che il medico curante, il medico che ha poi la gestione della vita della persona assistita possa con un semplice clic poter vedere e avere in tempo reale gli esami, è un passaggio in più, è un'attenzione in più alle persone. Grazie a tutti i nostri amici.